Maxi furto in un appartamento a Ponte Milvio nella zona Roma Nord. I ladri sono entrati nell'abitazione di due docenti universitari e hanno smurato la cassaforte con dentro gioielli, diamanti e Rolex per un valore di oltre 150 mila euro. Sul posto la polizia che indaga sul furto. Quello dei furti in appartamento in questo periodo è un fenomeno in decisa crescita, complici le vacanze e i lunghi periodi d'assenza dalla città. Non solo abitazioni ma spesso ad essere presi di mira sono anche le attrezzature lasciate incustodite o i garage. Proprio l'omessa custodia è fonte di maggiori problemi e determina la violazione del domicilio da parte dei malviventi che una volta all'interno delle proprietà private portano via monili, soldi, oggetti preziosi. Con piccoli ma efficaci accorgimenti però è possibile prevenire e mettersi in guardia da questi odiosi episodi. Ad esempio le finestre non chiuse del tutto, le porte chiuse senza giro di chiave rappresentano quell'occasione senza alcun ostacolo che potrebbe far gola a un potenziale ladro. Ma non solo è bene evitare di postare sui social le foto delle vacanze o pubblicare post in cui si avvisano gli amici virtuali della propria partenza. Inoltre in caso di brevi assenze è utile lasciare qualche luce accesa, la radio, l'impianto stereo o il televisore in funzione. In commercio si possono facilmente reperire anche spine con timer integrato in modo da programmare l'accensione o lo spegnimento di una lampadina. Oppure è possibile ricorrere a delle semplici app in grado di controllare da remoto la tecnologia presente nell'abitazione. di un'abitazione di un'abitazione.